12 agosto giornata internazionale della gioventù nel 1999 con la risoluzione 54 120 l'assemblea generale delle nazioni unite ha approvato la raccomandazione della conferenza mondiale dei ministri responsabili per la gioventù di dichiarare il 12 agosto giornata a loro dedicata i governi in collaborazione con le ONG devono impegnarsi ad organizzare attività di informazione pubblica a sostegno della ricorrenza come mezzo per promuovere una migliore consapevolezza del programma mondiale d'azione per la gioventù adottato dall'assemblea generale già nel 1995 il focal point seleziona ogni anno un tema con il contributo dei componenti della rete interagenzie delle nazioni unite per lo sviluppo dei giovani il programma incoraggia i giovani di tutto il mondo a organizzare attività per aumentare la consapevolezza sulla situazione nel proprio paese allo scopo di rafforzare la partecipazione attiva come parte integrante dello sviluppo economico e sociale di ogni paese